Il treno regionale, 10-9-1-0, di Trenord, proveniente da Brescia, è diretto a Milano Greco Pirelli, delle ore 4 e 46, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Segrate. Il treno regionale, 10-1-1-0, di Trenord, proveniente da Brescia, è diretto a Bergamo, delle ore 5 e 06, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 10-9-1-3, di Trenord, proveniente da Milano Greco Pirelli, è diretto a Brescia, delle ore 7 e 04, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 10-1-1-7, di Trenord, proveniente da Bergamo, è diretto a Brescia, delle ore 7 e 54, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 10-9-1-8, di Trenord, proveniente da Brescia, è diretto a Milano Greco Pirelli, delle ore 8 e 56, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Arrodato, Chiari, Cividate al Piano Calcio, Romano, Morengo Bariano, Vidalengo, Treviglio, Pioltello Limito, Milano Lambrate. Il treno regionale, 10-1-2-0, di Trenord, proveniente da Brescia, è diretto a Bergamo, delle ore 10 e 06, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 10-9-2-5, di Trenord, proveniente da Milano Greco Pirelli, è diretto a Brescia, delle ore 13 e 04, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 10-9-2-9, di Trenord, proveniente da Milano Greco Pirelli, è diretto a Brescia, delle ore 15 e 04, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 10-9-3-6, di Trenord, proveniente da Brescia, è diretto a Milano Greco Pirelli, delle ore 17 e 52, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Arrodato, Chiari, Cividate al Piano Calcio, Romano, Morengo Bariano, Vidalengo, Treviglio, Pioltello Limito, Milano Lambrate. Il treno regionale, 10-1-4-5, di Trenord, proveniente da Bergamo, è diretto a Brescia, delle ore 21 e 54, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 10-9-4-4, di Trenord, proveniente da Brescia, è diretto a Milano Greco Pirelli, delle ore 21 e 56, e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Arrodato, Chiari, Cividate al Piano Calcio, Romano, Morengo Bariano, Vidalengo, Treviglio, Pioltello Limito, Milano Lambrate. Il treno regionale, 10-9-4-5, di Trenord, proveniente da Milano Greco Pirelli, è diretto a Brescia, delle ore 23 e 04, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla.